Purtroppo serve come il pane che in questo momento abbiamo analizzato con lo staff tutte le partite che abbiamo fatto e sinceramente aver raccordo solo due punti è un peccato perché se andiamo a analizzare anche la partita di sabato scorso abbiamo fatto 30 minuti una buona gara alla prima difficoltà abbiamo regalato per un'altra volta dei gol agli avversari che non hanno bisogno di questi regali quindi abbiamo lavorato su questo, sulla testa perché dobbiamo lavorare soprattutto sulla testa perché sembra che alla prima difficoltà tutto crolli tutto quello che di buono è fatto viene vanificato quindi andremo a Padova a fare la nostra partita cercando di fare il risultato positivo perché dobbiamo provare a fare il risultato positivo Sicuramente il Teramo andrà a fare la propria partita cercando di non concedere quegli spazi che ultimamente purtroppo abbiamo più che spazi è quei regali che abbiamo fatto agli avversari quindi cercheremo anche perché domani il campo sarà anche pesante dalle previsioni che ci sono state quindi sicuramente sarà una battaglia e dobbiamo prepararci alla battaglia Noi abbiamo un vantaggio, non è che abbiamo un vantaggio noi dobbiamo andare a fare, abbiamo meno pressioni, abbiamo la possibilità di dimostrare quello che valiamo contro le prime in classifica e quindi dobbiamo andare sereni e tranquilli questo deve essere il nostro obiettivo logicamente come abbiamo detto già prima cercando di non regalare agli avversari perché questo purtroppo è una costante che si è ripetuta penso che era anche prima così, da quello che ho visto anche in precedenza per esempio la partita con il Vicenza uguale, la partita con il Gubbio uguale quindi bisogna capire perché ci sono queste situazioni se andiamo a vedere, ripeto, Ravenna, Pordenone, Fermo forse l'unica squadra che è sotto il profilo del gioco e del palleggio la Ferral-Pisalò è quella che ci ha messo un po' più in difficoltà di tutte poi paradossalmente abbiamo concesso meno rispetto agli altri non ci sono squadre che ti hanno dominato sotto il profilo del gioco perché se poi vai a vedere i minuti di possesso palla addirittura sabato scorso abbiamo avuto possesso palla più noi che loro rispetto al Bassano purtroppo hai pagato quelle situazioni che di gioco va in vantaggio prendi il gol su punizione, prendi il 2-1, rientri, stai facendo quasi la partita perché se poi rivedi le immagini abbiamo iniziato a provare a riaprire la partita prendi il rigore e lì finisce tutto, ti crolla tutto il mondo addosso questo non deve succedere, dobbiamo giocare tranquilli e sereni sapendo che incontriamo il Padova ma dobbiamo fare la battaglia se siamo pronti alla battaglia è bene, se no faremo fatica anche domani